buongiorno ci troviamo a castano primo esattamente in via giolitti dove ci sono le scuole medie del plesso falcone borsellino qui da anni a questa parte fervono dei lavori di cui sindaco giuseppe pignatiello ci fa un punto perché siamo arrivati anche a un momento importante con l'inaugurazione della sala polifunzionale da dove siamo partiti sindaco beh è stato insomma diciamo molto difficile e molto lungo molto lungo l'operazione insomma per arrivare a questo a questo risultato risultato al di là della sala polifunzionale insomma che ci dà grande soddisfazione perché particolarmente a belle sarà sicuramente molto utile ai nostri ragazzi delle scuole medie delle scuole elementari e della scuola materna statale oltre che naturalmente per associazioni realtà esterne che decideranno poi di utilizzarla è un lavoro importante positivo perché è un lavoro di circa un milione di euro che riguarda il capotto della scuola che riguarda la serramentistica per quanto riguarda la scuola che riguarda tutto il controsoffitto l'illuminazione la verniciatura eccetera insomma è stato fatto un restyling completo molto molto importante e insomma siamo particolarmente soddisfatti di questo soprattutto in un periodo come questo dove purtroppo le scuole vivono una grande difficoltà legata alla pandemia e legata insomma questa situazione che stiamo vivendo purtroppo il nostro malgrado. Ecco per quanto riguarda la sala polifunzionale che è aulamagna ma polifunzionale anche aperta quindi al pubblico quanto è stato diciamo cubato a livello di risorse economiche? Sì diciamo che dell'intera operazione questa è sicuramente la parte più piccolina sono circa 50 mila euro che abbiamo speso per tutto questo rifacimento quindi per quanto riguarda la sistemazione della parte audio e della parte legata appunto all'illuminazione eccetera che renderà ancora più accogliente questo luogo e che permetterà di utilizzarlo al massimo è stato piacevole ricevere anche ringraziamenti da parte di tante maestre da parte di tanti insegnanti da parte del dirigente scolastico segno insomma di un lavoro ben fatto fatto ascoltando proprio il loro bisogno e insomma speriamo che presto si possa ricominciare ad utilizzarlo come insomma come facevamo prima di questa pandemia.